Siamo a Manhattan, sulla 34esima angolo Fifth Avenue e volevo mostrarvi una cosa. Questa è una farmacia, perché in Italia non so se ci sia la stessa cosa. Entriamo nella farmacia, vediamo. Nella farmacia ci sono sciampi, più odoranti, trucchi, questi sono i trucchi. Deodoranti nella farmacia. Quindi in farmacia potete trovare in America un po' di tutto, trucchi anche. Ma veramente di tutto. Dentifrici. Ecco il listerno. Quanto costa il listerno? 7 dollari. Carta igienica. 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 Aspettorati Ci siamo ancora ipno-inducenti Ipno-inducenti come Questo C'è un po' di tutto in realtà Ecco, gelati in farmacia Gli snack e patatine Birra in farmacia C'è la frutta ovviamente È più un supermercato in realtà La corona, la corona è 4 da 12, 21 dollari Sì, 12, 12 corona, eccolo lì Ok